Weekend positivo per la parla ovale Aquilana. In Serie A la Gran Sasso Rugby inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno, superando 27-5 il Cus Perugia dopo tre sconfitte consecutive. Cinque punti del bottino, compreso quello di Bonus, che consentono a Gelo Rossi di Colce Rutilio di guardare con maggiore fiducia ai prossimi match. Contro gli Umbri la partita è stata senza storia, con la Gran Sasso che ha chiuso il primo tempo sul 13-0, grazie alle mete di Giampietri e Caione. Stesso copione nella ripresa, con altre due mete, trasformate da pallotta e messe a segno dall'ex Neroverde dell'Aquila Lofrese. E proprio l'Aquila Rugby ha centrato il primo punto stagionale, nella gara interna dei fattori contro la Lazio, valevole per il secondo turno del trofeo di eccellenza. Match altalenante, con Aquilani e Laziali, che si sono alternati alla testa dell'incontro. Sono proprio questi ultimi però a fare bottino pieno, con il finale di 19-23. Nonostante la battuta d'arresto però, l'Aquila riesce a conquistare un punto, il primo di questa annata, contrassegnata fino a questo punto solamente da sconfitte. Una tendenza che l'Aquila proverà ad invertire alla ripresa del campionato, anche se la missione sul campo dei campioni d'Italia del Calvisano è quasi impossibile. Sconfitta a Perugia, infine, per le ragazze delle Belle Neroverdi, nel girone meridionale di rugby femminile, 24-20, in casa delle donne etrusche a Perugia. E per l'Avezzano, in serie B, con i marsicani costretti ad arrendersi 25-3 in casa del Colleferro.